Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Continua il viaggio alla scoperta del Portogallo. Oggi lasciamo Braga e ci dirigiamo verso Avero, la Venezia del Portogallo, a seguire a Gueda, la città degli ombrelli colorati e per finire Coimbra. Appena arrivati a Avero ragazzi, che dire, una fantastica città. Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Arrivati a Coimbra ragazzi! Come potete vedere dietro di me c'è la famosissima Università di Coimbra, bellissima veramente, ve la consiglio a tutti. Purtroppo gli ombrelli colorati di Gueda erano stati rimossi, non c'erano più. Purtroppo gli ombrelli colorati di Gueda erano stati rimossi, non c'erano più, non c'erano più. Purtroppo gli ombrelli colorati di Gueda erano stati rimossi, non c'erano più. Purtroppo gli ombrelli colorati di Gueda erano stati rimossi, non c'erano più. Purtroppo gli ombrelli colorati di Gueda erano stati rimossi, non c'erano più. Purtroppo gli ombrelli colorati di Gueda erano stati rimossi. Purtroppo gli ombrelli colorati di Gueda erano stati rimossi, non c'erano più. Purtroppo gli ombrelli colorati di Gueda erano stati rimossi, non c'erano più. Purtroppo gli ombrelli colorati di Gueda erano stati rimossi, non c'erano più. Purtroppo gli ombrelli colorati di Gueda erano stati rimossi, non c'erano più. Purtroppo gli ombrelli colorati di Gueda erano stati rimossi, non c'erano più.